Ciao a tutti, questo è il nostro consueto video di riepilogo di quanto è accaduto la settimana appena trascorsa sui mercati azionari, ho ricevuto molte mail da parte vostra in seguito al webinar di ieri, molti mi chiedevano la foto della miniatura con lo schema riassuntivo delle principali candele giapponesi e dei principali pattern, appena avrò terminato di registrare questo video manderò ovviamente a tutti questa miniatura perché mi fa piacere come sapete essere sempre di parola. Prima di iniziare devo dire che nonostante abbia sempre delle alte aspettative, sono comunque moderatamente soddisfatto perché siamo ormai a meno di 20 iscritti per arrivare a 2.000, essendo un canale di finanze operative e quindi di nicchia sarebbe quello dei 2.000 iscritti già un primo traguardo abbastanza importante ma come sapete non mi dispiacerebbe proseguire ulteriormente nella crescita perché come vi ho già detto tante volte non vedo e capisco che possa apparirvi come un discorso da persona immodesta un'offerta similare a questa in rete perché questo è uno dei pochi canali gestiti da un trader professionista e da un formatore che ha fornito addirittura alcuni top trader nella sua carriera. Quindi per chi non lo avesse ancora fatto valuti di iscriversi al canale e attivare le notifiche per ricevere gli aggiornamenti in tempo reale perché nei prossimi giorni mi piacerebbe veramente superare quota 2.000 che ripeto per un canale di finanza operativa è un risultato comunque assolutamente lusinghiero però non intendo ovviamente perdere ulteriore tempo vi condivido subito lo schermo e partiamo come nostro solito dagli indici americani. Ho messo un time frame settimanale perché ovviamente esaminiamo la settimana appena trascorsa ma perché si vede bene come ci sia stata un'inversione rispetto alle due settimane precedenti di gennaio dove il Dow Jones ha avuto una sotto performance sia rispetto allo che rispetto al Nasdaq. Vedete che il Dow Jones ha perso il 2,7 per cento, lo Standard & Poor ha perso solo lo 0,66 per cento e il Nasdaq addirittura ha guadagnato lo 0,55 per cento. Se ci spostiamo alle borse europee vediamo che il DAX ha perso lo 0,35 per cento, il CAC ha perso lo 0,39 per cento e l'Eurostox ha perso lo 0,74 per cento. La migliore borsa europea tra quelle più importanti è stato il nostro Futsimib che ha perso lo 0,06 per cento. Che cosa intendo dire? Che tolto il Dow Jones l'andamento delle borse americane si sta finalmente avvicinando allineando a quello delle borse europee anche se rimane comunque il differenziale davvero importante perché se prendiamo questo mese il Dow Jones ha fatto più 0,69, lo Standard & Poor ha fatto più 3,47, il Nasdaq ha fatto più 6,44 però il DAX è a più 7,97, il CAC è a più 8,07, l'Eurostox è a più 8,60 e lo Standard & Poor Mib è a più 9,16 quindi noi siamo addirittura i migliori in Europa e ovviamente questa è quasi un'eccezione perché storicamente abbiamo sempre sotto performato dal 2001 in avanti fondamentalmente. Noi però dobbiamo fare l'analisi come nostro solito di tutto il Futsimib perché ovviamente è stata comunque una settimana importante e c'è qualcosa di interessante da sottolineare perché prima di pubblicare questo video, prima di registrarlo ho voluto fare uno screening soprattutto per capire dove c'era stato un inizio di debolezza e logicamente per quanto riguarda i titoli, il segmento che sta soffrendo di più sicuramente credo che siano le utilities. La mia spiegazione è che comunque le parole della Lagarta Davos ci spingono a pensare che l'aumento dei tassi di interesse o meglio l'entità dell'aumento dei tassi di interesse non possa ancora essere ridotta per cui se nella riunione del 2 di febbraio e anche in quella successiva la BCE aumenterà di 50 punti base il tasso di sconto cosiddetto, le utilities a mio avviso sono destinate a soffrire ed è per questo che A2A è in una situazione di correzione che non è pericolosa fino a che non perde 1,326 ma sotto questo livello potrebbe arrivare fino a testare la media mobile a 200 a 1,289 per quanto riguarda invece Amplifon, ne abbiamo già parlato anche ieri nel webinar la situazione tecnica è molto delicata però nel male come vi ho già detto ieri non ha perso il minimo del 7 di novembre a 25,06 perché pur avendo fatto un minimo intraday a 25,02 ha chiuso però a 25,71 con un hammer quindi sarà sicuramente un titolo da monitorare però se domani non dovesse accelerare a ribasso è possibile che continui a muoversi in questo ampio trading range anche per le prossime sedute, ovviamente il massimo del 14 di novembre che è stato 29,63 a questo punto è piuttosto difficile da raggiungere, magari se dovesse iniziare una fase di recupero probabilmente si potrebbe fermare a 28,24 per quanto riguarda Alzimuth tiene ancora molto bene questa rialzista partita dai minimi del 13 di ottobre è in laterale sui massimi di periodo e ormai sono ormai sette sedute che in questo trading range qui fondamentale è il livello di 22,25 sotto questo livello ci sarebbe un'accelerazione almeno fino al minimo dell'11 di gennaio che è 21,82 e poi eventualmente fino a 21,15, 21,17 quindi quando abbiamo la fortuna e anche la bravura di detenere in portafoglio un titolo che ha fatto un rally del genere dobbiamo ovviamente valutare uno stop profit e sotto 22,25 c'è a mio avviso un'uscita quasi obbligata se estendiamo a un time frame settimanale il target di 23,39 è stato quasi raggiunto questa settimana perché ha fatto un massimo a 23,24 il target successivo è 23,85 massimo della terza settimana di febbraio dello scorso anno però ripeto il mercato non è assolutamente in pericolo dal punto di vista tecnico il nostro Fuzzimib lo sarebbe solo se perdessimo 24,930 che è come abbiamo potuto vedere piuttosto distante però degli stop profit soprattutto per chi è entrato nelle ultime settimane o negli ultimi mesi vanno fissati perché una correzione fisiologica anche solo per scaricare l'ipercomprato di breve ci può assolutamente essere Banca Generali è più o meno nella stessa situazione di Azimut anche se sta facendo più fatica a tenere questa rialzista partita dai minimi del 28 di settembre scorso in questo caso il livello chiave è 33,44 che è il minimo delle ultime 9 sedute sotto questo livello si va direttamente a 32,88 poi qui c'è un micro gap da chiudere a 32,40 quindi vale lo stesso discorso fatto per Azimut sotto 33,44 personalmente applicherei uno stop profit e aspetterei una correzione per rientrare sul titolo ovviamente se il mercato decidesse di proseguire a rialzo anche Banca Generali potrebbe toccare nuovi massimi quindi il target in questo caso è relativo alla terza settimana scusate la quarta settimana di febbraio dello scorso anno 35,64 Banco BPM è in un range piuttosto stretto nelle ultime tre sedute e viene da un rally incredibile però in questo caso io non mi chiuderei sotto il minimo delle ultime tre che è 3,767 ma aspetterei almeno il minimo di 3,69 che è quello del 16 di gennaio se guardiamo un titolo se guardiamo il titolo con un time frame settimanale vedete che addirittura siamo sopra il massimo della spinning top della terza di febbraio del 2022 che era stato a 3,762 quindi per avere una visione di dove potrebbe arrivare Banco BPM dobbiamo addirittura mettere un grafico mensile e vedete che torniamo addirittura a maggio 2016 4,548 ovviamente questo è un target molto ambizioso non raggiungibile in poche sedute però al momento è uno dei titoli assolutamente più forti di tutto il Fuzzimib ovviamente chi fosse rimasto fuori deve sempre aspettare una correzione per rientrare l'ideale è probabilmente la chiusura del gap lasciato aperto sul massimo del 3 di gennaio 3,518 Biper è paradossalmente ancora più forte di BAM perché ne abbiamo anche di questo caso discusso ieri nel webinar perché la candela del 17 di gennaio può tranquillamente configurarsi come un engulfo in bilis e sui massimi di periodo nella maggior parte dei casi avrebbe dovuto prevedere una correzione almeno direi fino a 2,08 circa quindi come vedete purtroppo non sempre analisi tecniche affidabili anche perché se lo fosse non saremmo ovviamente qui quello che più conta è che però venerdì Biper è andato a fare un nuovo massimo di periodo a 2,305 e se mettiamo un time frame settimanale vedete che ha rotto praticamente ogni livello di qui fino alla prima settimana di marzo del 2020 che ha avuto un massimo a 2,48 per cui questo è il target per Biper ovviamente sotto il minimo della shooting star quindi 2,17 io applicherei uno stop profit tornerei a guardare il titolo da 2,08 anche se probabilmente l'ideale sarebbe un ritorno sull'ex massimo relativo di breve periodo toccato il 7 di novembre a 2,05 molto forte anche Buzzi vedete questa rialzista partita dai minimi del 29 di settembre quanto stia sotto i prezzi e al momento non sta ancora dando alcun segnale di nemmeno correzione non tanto inversione in ogni caso noi la nostra exit strategy dobbiamo sempre averla sotto 19,345 è il livello ideale sotto il quale appunto uscire dal titolo ha sostanzialmente toccato il target dell'ultima settimana di febbraio del 2022 19,80 avendo fatto un massimo settimanale 19,86 poi ha chiuso la settimana 19,69 di conseguenza il target per la settimana entrante è il massimo della terza settimana di febbraio del 2022 che è 20,39 passiamo adesso a Campari titolo che ho visto interessare molto io ho già detto chiaramente che lo detengo nel portafoglio della mia newsletter finanziaria ho un livello di uscita per il momento ancora piuttosto distante perché mi ero dato come stop 9,48 sicuramente se dovessi vedere un indebblimento del mercato anche se Campari abbiamo visto che non è proprio un titolo con beta elevato ecco non vi ho mai spiegato il concetto di beta il beta che viene calcolato automaticamente e forse si trova anche su Milano Finanza una volta c'era in poche parole indica il rendimento di un'azione facente parte di un paniere rispetto al paniere di appartenenza per cui ci sono titoli che hanno beta molto elevato la parità ovviamente è 1 e ci sono titoli che hanno beta meno elevato che significa che c'è meno correlazione con il paniere di appartenenza Campari storicamente ha un andamento che può anche essere diverso dal proprio paniere di appartenenza quindi è fondamentale che la chiusura del gap lasciato aperto a 9,786 se dovesse avvenire perché la sfiorata per esempio il 13 gennaio non preveda un ulteriore ribasso perché se no il titolo potrebbe arrivare anche fino a 9,48 che è poi il livello di supporto statico più importante se questa base di area 9,80 dovesse tenere è possibile che il titolo continui a muoversi in trading range e per la settimana entrante non andare comunque sopra i massimi dell'11 gennaio che sono stati a 10,225 se invece questo dovesse verificarsi e per me sarebbe per carità una greta sorpresa il target rimane quello del massimo del 24 di novembre 10,455 poi abbiamo che perde la rialzista partita dai minimi del 3 di ottobre nella seduta di giovedì ieri fa un hammer che rimette leggermente in discussione nel movimento però chi non si fosse chiuso giovedì perché un segnale di uscita il titolo lo ha dato valuti il 15,41 che è il minimo del 6 di gennaio perché comunque il titolo è sicuramente molto tirato non mi stupirebbe di vederlo a 15,05 14,96 anche fino ai minimi di questa dragonfly sporca 14,645 e consideriamo che questi sopra 16 sono massimi storici oltretutto Diasorin altro titolo che interessa molto e che io ho acquistato nel mio portafoglio della newsletter finanziaria livello importante è 123 minimo del 28 di ottobre e ancora più importante il 122,05 minimo della spinning top del 12 di gennaio io sotto questo livello chiuderò anche in perdita perché sono entrato a prezzi più alti il titolo rimane comunque possibile anche qui come per Campari un trading range che non dovrebbe però andare sopra 132,3 e nel ecco ve l'ho caricato qua per ricordarvelo domani stacca un anticipo del dividendo che complessivamente è il 6,86 domani stacca 1,02 che è per un 3,5% circa quindi grosso modo la metà e ovviamente questo inciderà sul prezzo del titolo in ogni caso io vedevo un principio di distribuzione e non mi stupirebbe rivedere Enel tra 5,48,8 5,50 e 5,44,7 Eni continua a essere piuttosto forte non riesce a rompere i massimi del 16 di novembre 14,656 però diciamo che è in questo trading range fatemi vedere ecco ha lasciato un micro gap aperto sul massimo di giovedì 14,346 però il livello chiave per il breve secondo me è ovviamente il minimo dell'11 di gennaio 14,056 perché sotto quel minimo perderebbe anche la rialzista partita dai minimi del 20 di dicembre quindi io personalmente aspetterò un ritracciamento per entrare l'ideale per me è non prima di area 13,50 chi fosse in posizione tenga conto di questo 14,056 perché comprometterebbe molto il quadro tecnico se mettiamo un time frame settimanale in caso di rottura a rialzo il target può arrivare fino ai massimi che sono stati toccati a fine febbraio dello scorso anno 14,852 poi abbiamo ERG che anche questo è un titolo che interessa molti perché giustamente è umano provare a acquistare dei titoli che non sono scappati e che stiano provando a fare una base ho fatto anch'io questo ragionamento e il mio ragionamento parte ovviamente soprattutto dalla possibilità di gestire queste posizioni con uno stop stretto per cui è fondamentale quest'area di supporto 27,28 27,32 27,24 avete questo triplo minimo sporco potrebbe anche andare a testare nei prossimi giorni non è un problema che vada a toccare questi livelli che raggiunga questi livelli l'importante è che la chiusura giornaliera sia sopra a questi livelli chi avesse un'ottica di medio-lungo periodo comunque si dia 26,54 come stop imprescindibile per quanto riguarda il possibile rimbalzo al momento non è ancora venuto non è ancora venuto diciamo alcun segnale non è ancora sopraggiunto alcun segnale di possibile rimbalzo io credo comunque che se non perde questo triplo minimo sporco almeno fino a 29,4 considerato che la media mobile a 50 transita a 29,47 ci possa tornare molto forte anche race che questa settimana rompe i massimi della spinning top del 2 dicembre che erano stati 217,1 fa un massimo nella seduta di mercoledì a 223,5 se allarghiamo il time frame a settimanale vedete che sono state superate tutte le resistenze statiche intermedie su time frame settimanale per cui il target è 227,6 massimo della seconda settimana di gennaio del 2022 su un titolo così tirato dal punto di vista tecnico è sempre opportuno fissare uno stop profit il 217,1 ex massimo relativo toccato appunto 2 dicembre è secondo me il livello di uscita migliore più opportuno per chi fosse rimasto fuori come sottoscritto il reingresso ideale è a chiusura del gap lasciato aperto il 6 gennaio a 209,2 fineco vedete che sta iniziando una fase di consolidamento abbiamo ancora a 16,085 da chiudere un micro gap che è stato lasciato aperto sul massimo del 3 gennaio molto importante anche la tenuta di questa trendline rialzista partita dai minimi del 13 ottobre scorso se dovesse perdere il 16,085 in questi casi si dice chiudere il gap e proseguire a ribasso è facile vedere il titolo almeno a 15,61 per cui detenessi nel mio portafoglio fineco sotto 16,085 uscirei dal titolo diverso il discorso per generali che addirittura venerdì rompe al rialzo i massimi di periodo che aveva toccato peraltro mercoledì a 17,645 a questo punto è opportuno vedere sul livello settimanale quali target potrebbe raggiungere il titolo abbiamo un target nella terza settimana di maggio dello scorso anno a 18,315 e poi un massimo relativo alla prima settimana di maggio del 2022 a 18,545 poi era vedete che vi avevo già anticipato la debolezza delle utilities vedete che serie di candele comunque rosse dopo il mancato superamento della media mobile a 200 per fortuna non ha chi detiene ovviamente il titolo perso ancora la rialzista partita dai minimi del 13 di ottobre adesso si è appoggiata alla media mobile a 50 2,648 se ovviamente dovesse perdere anche questo livello è facile che poi vada già a testare nelle prossime stagioni la trendline rialzista ma eventualmente possa scendere fino a 2,584 2,539 per cui è un titolo che al momento proverei ancora a mantenere ma chiuderei se dovesse perdere questa trendline rialzista e aspetterei che faccia una nuova base per eventualmente comprare il titolo anche Interpump è ovviamente molto tirata ha fatto un massimo di periodo mercoledì a 50.95 al momento non ha ancora dato un segnale di inversione ma sotto 48,84 potrebbe accelerare a ribasso io sotto questo livello applicherei uno stop profit ovviamente utilizzerei 46,34 che era il massimo relativo precedente quello toccato il 14 di novembre come eventuale ingresso sul titolo intesa ne abbiamo parlato anche ieri nel webinar perché ovviamente è impressionante la sotto performance rispetto per esempio a Unicredit c'è stata questa osservazione da parte della BCE che costringerà intesa a liquidare asset per 20 miliardi di euro il mercato venerdì l'ha presa piuttosto male tecnicamente però è ancora una situazione non del tutto compromessa perché sta tenendo la rialzista partita dai minimi del 13 di ottobre scorso e comunque in tre day pur avendo perso il livello ha chiuso sopra perché ha fatto un minimo a 2,1525 poi ha chiuso a 2,1805 sotto abbiamo comunque molto ravvicinata la media mobile a 50 2,146 il target successivo è 2,113 e poi 2,09 per cui diciamo che la situazione su intesa si è fatta molto più complicata e sarà un titolo assolutamente da monitorare da domani in avanti bene invece Inuit che fa nuovo massimo di breve periodo a 10,11 il target è a questo punto 10,20 10,21 e poi il massimo del primo di agosto dello scorso anno 10,34 lo stop profit qui a mio avviso è abbastanza facile perché va posizionato sotto 9,82,8 abbiamo 9,84 9,82,8 9,836 sono i tre minimi delle ultime cinque sedute dopodiché il titolo probabilmente andrebbe o sulla media mobile a 200 9,656 o su quella a 50 che è 9,61 italgas vedete che anche italgas ha iniziato una fase di correzione come per era le difficoltà sono iniziate quando è andata a contatto con la media mobile a 200 5,497 adesso deve assolutamente tenere questa trendline rialzista partita dai minimi del 13 di ottobre scorso se non dovesse tenerla credo che il titolo andrebbe almeno a 5,25 considerato che anche il livello su cui transita la media mobile a 100 e poi fino a 5,18 però come vedete le utility sono abbastanza in difficoltà Iveco è il titolo migliore come impostazione tecnica assieme a generali vedete questo breakout dei massimi a 7,155 è importante soprattutto su un titolo come Iveco fare un'analisi a livello di candela daily e poi passare alla settimanale perché? perché sulla daily vediamo comunque il primo target importante che è 7,51 ma si vede abbastanza chiaramente il gap lasciato aperto a 7,74 sul minimo del 23 di febbraio se passiamo alla candela settimanale si vede ancora più chiaro il target di 7,51 ma non si vede più il gap per cui ieri se vogliamo fare una puntualizzazione al webinar perché non si è mai perfetti l'ideale è proprio partire da una candela giornaliera passare a una candela settimanale ed eventualmente a una mensile non avendo tantissima storia perché è poco più di un anno che è quotata Iveco basta sicuramente una candela settimanale e ci fa vedere appunto il target di 7,51 e mezzo poi dobbiamo tornare alla candela giornaliera per vedere la chiusura del gap a 7,74 ovviamente il titolo è a dir poco fortissimo per cui comunque essendo così tirato magari cominciamo a utilizzare il 7,155 come stop profit per un reingresso direi l'ideale è il minimo del 13 gennaio e 6,758 portiamoci su Leonardo anche Leonardo ha fatto un nuovo massimo di periodo a 8,952 l'aspetto più interessante che è stata superata nella seduta di giovedì la media mobile a 200 8,705 e il target è il massimo del 16 di agosto 9,214 poi 9,268 che è il massimo del 4 di agosto in questo caso utilizzerei il minimo di giovedì 8,642 come stop profit e è gioco facile per come opero io direi che per un reingresso aspetterei almeno la chiusura del gap lasciato aperto sul massimo del 16 gennaio 8,31 Mediobanca è ancora in un trend rialzista abbastanza solido ce lo dimostra la trend line che ho tirato dai minimi del 12 di ottobre scorso ha però fatto una doji sui massimi di periodo il 13 gennaio massimi a 9,798 rimane il gap del dividendo molto ampio a 9,998 da chiudere sta provando a mettersi in laterale è fondamentale che non perda questa rialzista e prima avremo un piccolo baluardo che ci viene fornito dalla media mobile a 50 9,35 per cui è ipotizzabile comunque per le prossime sedute magari un trading range che nella parte alta sia appunto 9,798 e nella parte bassa magari possa arrivare fino appunto alla media mobile a 50 se dovesse invece superare anche 9,798 il target ovviamente è la chiusura del gap a 9,998 Moncler è sicuramente in una situazione positiva ma vedete che qui sul massimo di periodo toccato mercoledì a 57,22 ha disegnato una shooting star poi la cosa importante che abbia già stia tentando già di fare una nuova base e in questo caso il livello sotto il quale non deve scendere nelle prossime sedute 54,68 e indicherei questo come livello di eventuale uscita perché poi avremo 53,78 52,5 e 51,8 vediamo allargando il time frame dove potrebbe arrivare il titolo adesso mettiamolo su un settimanale vedete che è già stato superato il massimo della ultima di febbraio dello scorso anno 56,02 il target è sulla terza di febbraio 57,44 che è già stato quasi sfiorato poi se dovesse ulteriormente salire si può arrivare fino a 59,32 per quanto riguarda Nexi altro titolo che so interessa a molti di voi io come vi ho detto ho voluto rischiare non chiudendomi perché ci si poteva già chiudere giovedì su questa candela da meno 3 però è un titolo che è rimasto molto indietro mi aspettavo che potesse arrivare almeno fino a 8,932 massimo della Doji post gap down ovviamente dovuto dalla BB di banca intesa il gap addirittura a 9,704 io ho la chiusura sul gap a 7,846 perché sarebbe una chiusura più o meno in pari per me è vero che butto via tanto guadagno però è un titolo rimasto totalmente indietro che devo provare a mantenere la posizione Pirelli invece mi sembra un po' arrivata di breve il massimo del 18 di gennaio di mercoledì 4,806 mi sembra un massimo di periodo abbastanza importante credo che sotto il minimo di venerdì 4,48 e mezzo possa arrivare almeno a 4,384 4,86 e mezzo e poi eventualmente a 4,266 qui mi sento abbastanza tranquillo nel poter dire che con questa configurazione tecnica con un inizio di divergenza ribassista su indicatori oscillatori difficilmente per la prossima settimana questi 4,806 potranno essere superati anche poste è appoggiata questa rialzista partita dai minimi del 13 di ottobre scorso è fondamentale che venga tenuto questo livello in realtà io aspetterei 9,46 come prezzo di uscita dal titolo sotto 9,46 il primo target è la media mobile a 50 che è molto ravvicinata a 9,437 e poi c'è il primo obiettivo serio sul quale valutare eventualmente il titolo per un nuovo ingresso che è 9,22 anche qui desidero essere molto chiaro poste come per esempio Pirelli leggermente meno di Pirelli però mi sembra che di breve sia arrivata mi sembra che questa sia una distribuzione ok però quando dovesse anche scendere non è che perché 9,22 è un livello importante io compro 9,22 io devo aspettare che faccia base in quell'area e solo dopo alcune sedute se non diverse sedute in laterale compro con stop stretto sotto i minimi sempre fortissima Prismian che ha fatto nuovo massimo storico venerdì a 37,63 in questo caso possiamo limitarci a dire che sotto 35,96 precedente massimo del 13 di dicembre sarebbe opportuno applicare uno stop profit e che per chi fosse fuori dal titolo come sottoscritto ideale sarebbe un ritorno a 34,51 per quanto riguarda ricordati qui abbastanza obbligata un'uscita sotto 41,55 però poi il target sarebbe almeno la media mobile a 200 che è 40,70 e poi eventualmente 40,02 40 andiamo su Saipem Saipem fortissima veramente perché ha nuovamente rotto al rialzo e vedete che ormai ha come target media mobile a 200 1,45 e poi 1,55 massimo del 13 di luglio dello scorso anno ha fatto 1,31 75 mercoledì 1,32 giovedì direi che uno stop profit sotto 1,31 75 è doveroso e si torna a guardare il titolo non prima di 1,23 05 Snam ha una situazione leggermente migliore rispetto per esempio a ERA e a Italgas perché nonostante stia facendo fatica su questi livelli di massimo di periodo è ancora sopra la media mobile a 200 4,87 e mezzo in questo caso lo stop è sotto 4,836 primo target sarebbe la media mobile a 50 4,77 8 e poi il solido supporto statico di 4,70 dove personalmente cercherò magari un reingresso buona reazione ieri venerdì di Stellantis dai minimi di giornata 13,78 perché ha chiuso quasi con una Dragonfly a 14,024 poco sopra 14,12 di transito alla media mobile a 50 e poi abbiamo la chiusura del gap lasciato aperto a 14,25 e 2 ovviamente al momento credo che possa solo rimbalzare magari andare fino a 14,456 però non invertire è importante è importante comunque che continui a dimostrare un minimo di reazione quando il titolo viene venduto il livello chiave per il breve è 13,61 perché a 13,62 c'è poi anche la media mobile a 100 però diciamo che è un titolo che dobbiamo assolutamente seguire la prossima settimana STM dopo la pessima seduta di giovedì ieri rimbalza e fa quasi una Dragonfly è più un hang in men secondo me però diciamo che l'importante è che il titolo non sia andato sotto il livello per me chiave di breve che è il minimo della doji del 12 di gennaio 37,015 perché la rottura di questo minimo avrebbe implicato un ritorno almeno a testare la media mobile a 50 e 36,14 ovviamente io ho detto che su questa candela del giovedì avrei chiuso il titolo lo avessi avuto in portafoglio perché mi ha perso il massimo relativo precedente di 38,56 STM purtroppo abbiamo già spiegato tante volte è soggetta molto all'andamento dei titoli USA soprattutto non tanto del Nasdaq in se stesso ma non riesce a discostarsi più di tanto dall'andamento di AMD di NVIDIA di Intel per cui è condizionata molto da questo però diciamo che al momento potrebbe comunque muoversi in trading range tornasse sopra 38,56 sarebbe un segnale di forza notevole l'importante ripeto che non perda 37,015 Telecom come sapete io sono uscito perché mi sembra che il titolo si stia indebolendo il primo segnale di alert me l'ha dato questa shooting star del 17 di gennaio massimo 0,2681 chiusura 0,26 io aspetto il titolo almeno a 0,2434 poi ci sarebbe 0,2355 e quindi il ritest della media mobile a 200 0,2317 Tenaris ha dato questo segnale purtroppo equivoco ne abbiamo già parlato una sorta di bull trap massimo di periodo 17,54 chiusura 17,19 e mezzo ma superiore al massimo relativo precedente del 4 di novembre 17,13 la seduta successiva perde quasi il 5% ma sta tenendo questa rialzista di breve che è comunque importante perché sotto questo livello e parliamo più o meno di 16,35 circa anche se il minimo di venerdì 16,32 è un minimo comunque importante sotto questo livello media mobile a 50 16,09 e poi questa serie di minimi allineati pochi tic sopra 16 per quanto riguarda Terna è più o meno nella situazione di Snam Rete Gas ovvero sta dimostrando debolezza scusate Snam mi ero dimenticato di dirvi che è un dividendo meno importante rispetto a quello di Enel comunque lunedì stacca 0,11 ecco dobbiamo tenere conto di questo dicevo che la situazione tecnica però è abbastanza simile perché in realtà si sta indebolendo ma riesce a mantenersi sopra la media mobile a 207,28 per cui il target importante da non perdere è 7,23 che è il minimo della congestione in breve sotto questo livello ci sarà sì un primo tentativo di tenuta della rialzista partita dai minimi del 13 di ottobre però a quel punto sarebbe probabile un ritorno almeno fino a 7,048 Unicredit come vi avevo detto molto più forte d'intesa ha quasi mancato la perfezione che sarebbe stata una chiusura superiore al massimo relativo precedente che era stato a 14,998 invece in tra lei ha fatto 15,148 ma poi è chiuso a 14,958 partiamo anche se l'impostazione è ancora piuttosto positiva da Lexi strategi obbligatoria sotto 14,31 primo target 14,01 e poi chiusura del gap lasciato aperto a 13,916 se invece allardiamo a settimanale il time frame vediamo che è già stato superato il primo target relativo all'ultima di febbraio dello scorso anno 14,844 per cui il target per questa settimana a rialzo è 15,442 massimo della terza settimana di febbraio dello scorso anno e poi ci sarebbe il 15,932 massimo della seconda di febbraio del 2022 oltre sarebbe veramente un po' eccessivo Unipol sta lateralizzando sui massimi il nuovo livello importante sotto il quale bisognerebbe uscire dal titolo è 4,682 abbiamo in realtà leggermente più in alto a 4,72 la media mobile a 50 però sotto 4,682 ci sarebbe subito 4,642 minimo dell'11 di gennaio e poi ovviamente questi minimi allineati che sono 4,557 4,564 al momento mi dà l'idea che possa muoversi in tra di range quindi avere come resistenza 4,82 4 se dovesse superare anche 4,82 4 potrebbe tornare sui massimi di periodo toccati il primo di dicembre a 4,915 anche per questo video ho concluso noi ci sentiamo ovviamente domattina prima dell'apertura del mercato diurno cercherò di organizzarmi meglio perché è importante che voi vediate il video almeno entro le 8 lunedì devo anche redigere la mia newsletter finanziaria per cui vengo in ufficio prima in settimana dal martedì al venerdì sono attorno alle 7 e lunedì vengo alle 6 quindi conto di farvi avere anche prima il video di preapertura auguro una buona domenica a tutti